jungle nero della virginia questo jungle è un cappello concepito per un uso equatoriale però si adegua bene anche i nostri climi estivi il cappello è realizzato in cotone ripstop e infatti al classico tessuto quadrettato antistrappo all'interno di questo cappello troviamo il label l'etichetta che attesta il 100% prodotto 100% in cotone infatti molto morbido versatile leggero da portare notiamo ai caratteristici fuori laterali di areazione anti insetto in quanto forniti di una retina sottilissima e la caratteristica banda lo circonda per mettere eventuale materiale camuffamento la parte esterna è tutta cucita infatti ha una falda morbida semirigida ma molto solida e bordata esternamente anti usura il laccetto è cucito ed ha un cursore in cuoio e non si può perdere in quanto arriva a fine corsa che serve per tirarlo a misura prodotto buono semplice molto versatile la parte con la cucitura è quella sul retro e va indossato in questa maniera senza far vedere la cucitura sul davanti anche perché il dietro è leggermente più alto rispetto al davanti